Sono dichiarazioni estremamente delicate che segnano la delicatezza tra l'altro del momento che stiamo vivendo, per il quale questa Presidenza non può che formulare auspici che in un momento così delicato del nostro Paese si possano trovare punti di intesa che favoriscano una esito della legislatura, una fine della legislatura con il massimo della condivisione. Non vi è dubbio che tutto attiene alle forze politiche, oggi naturalmente è successo un fatto non indifferente, vedremo gli sviluppi, io terrò informato doverosamente il Presidente della Repubblica del contenuto degli interventi, cominciando da quello del Presidente Finocchiaro e degli altri colleghi, il Presidente del PDL e altri per renderlo naturalmente e costantemente informato. Per quanto attiene ai miei doveri non mi settlerò sul da farsi.